Sì, è un progetto innovativo, è qualcosa che nasce in parte appunto anche dalla mia esperienza negli Stati Uniti. L'obiettivo è un obiettivo a lungo termine sul paziente, cioè ci muoviamo ormai non più nella direzione del classico ritocchino estetico, ma più specificatamente nell'educare il paziente a prendersi cura della propria pelle tramite un processo di prevenzione, cura e mantenimento di una pelle sana. E quindi un'azione di vero e proprio ripristino e ringiovanimento cutaneo, così come lo descrive il dottor Zinobagi negli Stati Uniti, che è un precursore di questa filosofia, di questo modo di approcciare l'estetica del viso e non solo. È stato un percorso formativo molto importante che di sicuro per me ha rappresentato una svolta nella mia esperienza professionale. Oggi comincio a vedere la bellezza, la bellezza della pelle in una visione diversa, una visione appunto in cui attraverso la cura possiamo ottenere sicuramente un ringiovanimento e quindi un miglioramento dell'estetica di una persona. Noi il primo consiglio che mi permetto di dare, di quello di cui sono sempre stato convinto, è quello di fare una prevenzione quotidiana. L'individuo, il paziente deve imparare a proteggersi dal sole intanto quotidianamente, non solo nelle stagioni più calde, ma di sicuro durante tutto l'anno, magari variando le percentuali dei fattori di protezione, variando l'applicazione, però basti pensare che attualmente negli Stati Uniti si arriva a prescrivere la protezione solare tutto l'anno per ben tre applicazioni al giorno. Questa è la luce dei fatti che è stato visto che oltre gli UVA e gli UVB si hanno dei danni anche dai LED, dei smartphone e tablet che si utilizzano quotidianamente. Questo è un nuovo studio che è in corso e ci si sta rendendo conto che talvolta anche impazienti che non si espongono direttamente al sole o a lampade abbronzanti, si verificano dei danni cutanei tipici di una fotoesposizione. Approfondendo questa ricerca è stata individuata la causa proprio nella prolungata esposizione a tablet e smartphone, quindi questa forte luce LED ravvicinata. Pertanto oggi negli Stati Uniti l'ultima applicazione giornaliera della fotoprotezione viene fatta intorno alle 15-16 del pomeriggio, paradossalmente, un momento in cui il sole è calante ma bisogna comunque prestare attenzione. L'altra cosa che sicuramente bisogna cominciare ad attenzionare tantissimo è cercare di mantenere i livelli di sebo più bassi possibili, fin dalla teneretà. La filosofia di Zinobagge ci dice che bisogna iniziare addirittura intorno ai 10 anni e francamente circa tre anni fa questo ho cominciato ad applicarlo sul mio figlio. Si riesce a fare un'ottima prevenzione dell'acne, in tal senso, ma la prevenzione sulla produzione di sebo, quindi il controllo del sebo cutaneo, permette di prevenire l'infiammazione cutanea, quindi l'ossidazione da radicavi liberi e di conseguenza si riesce a prevenire l'invecchiamento cutaneo prima che questo si manifesti.